gioco però la lazzi riesce a conquistare adesso il pallone è buono per per solano sul secondo paolo invece arriva la rete diffuso che ha segnato in tutti i match che ha disputato e allora ne fa 5 in campionato 4 su 4 in quattro partite giocate ha sempre messo il gol allora 1 a 0 razzi trovare sempre l'imbucata che forzata in maniera centrale eccola qui appena citata prova a girarsi il 300 a ritrovare in qualche modo il fiuto del gol non riesce l'attaccante a mettere l'uno a uno però ottima avanzata c'è l'angolo subito a rimorchio con la conclusione è una deviazione sfortunata e autogol questo della lazio allora il 300 fa 1 a 1 è tutto ancora in parità 3 giù falconieri con qualche difficoltà c'è la false tantuno bella la palla in mezzo perfuso che prova a controllare girare parole con la rovesciata telefonata ma ottimo gesto tecnico ma sempre la quella parte destra a impostare l'azione sbaglia però qui falconieri a un'altra occasione falconiere la piazza altra parata importante gioca martinetti vediamo se si propone il numero 9 sul secondo palo adesso taglia proprio martinetti la conclusione invece ambiziosa e poi martinetti con il taglio perfetto al momento giusto martinetti si fa trovare pronto quindi 2 a 1 con tanto di esultanza subito il tiro di falconieri dalla lunghissima distanza e palo calcio d'angolo adesso si muove dentro martinetti sul secondo palo servito in questo caso la sponda intelligente poi il tiro ottima la costruzione che però perde palla 300 sempre dalla fascia destra che ha le pericoli attenzione perché la lazio molto scoperta si va alla ricerca del 3 a 1 per il 300 pallone dentro pallone tutto facile per scorpati e allora 3 a 1 difesa della lazio rivedibile un eufemismo 3 a 1 per il 300 romani da monti la lazio in avanzato adesso pesolano prova girarsi si è girato adesso il pallone in buca d'angolo grandissimo gol da parte del numero 86 lazio che accorcia le distanze con un sinistro chirurgico allora 32 pesolano sul primo palo la deviazione di romani sulla traversa non riesce a trovare il gol del pareggio calcio d'angolo battuto sul secondo palo si può vedere adesso fuso che controlla e calcio fuso per il pareggio della lazio l'87 non ha perdonato per il sesto gol in campionato 3 a 3 lazio ancora in partita vediamo se ha l'idea per calciare la finta di corpo il 71 non a bocca il difensore poi il gol arriva finalmente da parte di foiconieri dopo i due gol nelle prime due di campionato ritrova la rete e soprattutto il vantaggio per 4 a 3 nel termina qui il match la lazio vince 4 a 3 sul 300 in rimonta 4 a 3 in questo match della lega over 35 lazio che trova la seconda vittoria in campionato non trova i tre punti i primi tre punti il 300